Parte il conto alla rovescia. L'8 novembre 2016 si elegge il 45esimo presidente degli Stati Uniti, che sono una repubblica presidenziale federale composta da 50 stati più un distretto, il District of Columbia. Il primo presidente, eletto nel 1789, fu George Washington. Il 44esimo, eletto nel 2008 e confermato nel 2012, è Barack Obama. Il presidente è capo dello Stato, comandante delle Forze Armate, capo del governo. A livello federale esercita il potere esecutivo, mentre quello legislativo è affidato alle due Camere del Congresso, Camera e Senato. Resta in carica quattro anni, può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi. Secondo la Costituzione, per potersi candidare alla presidenza occorre avere almeno 35 anni, essere americano per nascita, risiedere negli Stati Uniti da almeno 14 anni. La corsa alla Casa Bianca comincia con la scelta dei candidati. Storicamente si affrontano rappresentanti dei due principali partiti, Repubblicano e Democratico, ma possono partecipare, previa raccolta firme, anche indipendenti. Repubblicani e Democratici selezionano i loro candidati tramite votazioni Stato per Stato, primarie e caucus, ovvero assemblee di partito, che si svolgono da febbraio a giugno. A luglio i due partiti si ritrovano ciascuno nella propria convention, l'assemblea dei delegati che nomina ufficialmente i candidati. Il 26 settembre il primo dibattito elettorale e l'8 novembre l'Election Day. I cittadini non votano direttamente il presidente, ma nominano 538 grandi elettori che formano il collegio elettorale e che, riuniti nella capitale federale Washington, eleggono presidente e vicepresidente. Perché 538? È la somma di 435 deputati della Camera, 100 senatori più 3 rappresentanti del District of Columbia. Poiché ad ogni Stato corrisponde un numero di rappresentanti della Camera, almeno uno, sempre diverso calcolato in proporzione alla popolazione e una quota fissa di due senatori, il numero di grandi elettori varia a ogni elezione da Stato a Stato, ma non è mai inferiore a 3. In tutti gli Stati, tranne Maine e Nebraska, il candidato che ottiene il maggior numero di voti popolari conquista lo Stato con tutti i suoi grandi elettori. Viene eletto quindi non il candidato con più voti popolari, ma quello che conquista il maggior numero di grandi elettori. Numero minimo 270. Il 19 dicembre il collegio elettorale vota. Il 20 gennaio 2017 si insedia il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America.